La visita di controllo di due spettori Asur nell'area container di via Colombo a Tolentino non viene preannunciata e il sindaco venerdì scorso non li fa entrare. Il comitato 30 ottobre in merito alla questione aveva già in precedenza inviato al prefetto di Macerata e al ministro della Salute Speranza una lettera, rimarcando il rischio sanitario nella zona in seguito al diffondersi del coronavirus anche nel nostro territorio. Anche il Covid-19 rappresenta per il comitato 30 ottobre e per i suoi componenti un'occasione per attaccare il sindaco e la sua amministrazione come sempre, bersaglio preferito e solo, il villaggio container. Questo è quello che si legge in una nota diffusa dal sindaco Giuseppe Pezzanesi e dagli assessori. Il primo cittadino è colpevole, secondo il comitato 30 ottobre, di non aver fatto entrare gli ispettori dell'Asur. In realtà, si legge nella nota dell'amministrazione comunale, proprio per salvaguardare la salute di chi vive nei container ma anche per regolamentare ulteriormente gli accessi. Recentemente l'amministrazione comunale ha infatti provveduto a recintare tutta l'aria, a videosorvegliarla e a mettere un solo cancello di ingresso e uscita, cozona controllo sotto il servizio vigilanza, oltre a intensificare le operazioni di pulizia e sanificazione e ha disposto un ulteriore controllo all'interno della stessa struttura con personale dedicato al distanziamento sociale degli ospiti, anche e soprattutto nelle ore dei pasti. Nel caso specifico, il sindaco Pezzanesi ha ritenuto di non dover far entrare gli ispettori in quanto gli stessi non erano in grado di provare il loro stato di salute riguardo il Covid-19 e inoltre non erano dotati di dispositivi di sicurezza classici, tuta e calzari necessari ad evitare possibili situazioni di contagio. Va ricordato ancora una volta, come si legge nella nota dell'amministrazione Pezzanesi, che le persone che vivono all'interno del villaggio container, esclusa una parte che ha perso la casa a seguito del sisma del 2016 e che è in attesa dell'appartamento sostitutivo delle SAE, valutabile intorno ai 38 nuclei familiari, ha deciso autonomamente e chiaramente di restare nella struttura container per motivi logistici e di lavoro. Infatti non vi è alcuna permanenza forzata, ma persone che hanno scelto senza esitazioni di permanere nell'area.